Direi che abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, dove abbiamo preso un gol per l'unica volta che la palla è indirizzata dalla città nella nostra porta. L'abbiamo prestato abbastanza bene, partiti sempre con grande cognizione, abbiamo avuto anche qualche occasione per fargli molto male. Abbiamo preso un gol, dove ci sono anche gli avversari, vi faccio i miei complimenti perché la squadra è buona, forte, perché non avrebbero i punti in classifica, con giocatori importanti che hanno un grande tasso tecnico, grande fisicità e soprattutto con un giocatore in queste categorie come Lodi che c'entra assolutamente poco. Però noi credo che non abbiamo per niente assicurato. Grazie.